La vuoi? Questa cosa è che tanto non è che... Non lo faccio mangiare, mangia. Guarda, che bella che è. Che bella che è. Ma questo, non è che se mangiamo tardi, siamo abituati, non è che. Questa qua la mettiamo a Papperista. Ma andala via dopo, Papperista, non è che che lo va. Che bella è che... Guardala, guardala. Eh? Perché tirò il polo adesso? Perché io devo venire in braccio. Non segniamo la tv? È meglio, sì, perché ti... Ti ho mai segnato.